Adesso da un po' che non registriamo, abbiamo perso il flow. No, 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 vedrai. Salve, ciao. Ehi là. Bentornato. Bentornati tutti a Zitto e Guarda, un podcast dove ci costringiamo a guardare film a vicenda. E finora sto andando alla grande, dovrei dire. Sì, sì, no, è stato divertente finora, cioè almeno per me. Anche per me, molto. Magari oggi smetterà, ma spero di no. No, no. Perché oggi tocca a te, ma tocca a me a vedere il film. Esatto, oggi sarai vittima dei miei terribili gusti. Perché? Parto subito, perché non ci sono preamboli qua. Questo è un film che, prima di rivederlo per questa occasione, l'ho visto una sola volta al cinema quando è uscito, ovvero nel 2003. Il 2003? Un anno bellissimo! Non lo so, avevo nove anni e tutti gli anni erano bellissimi, credo. Io quanti anni avevo nel 2003 allora? Otto, otto, giusto, hai ragione. La matematica. Vabbè, ma già da Speed avevamo capito che non era la mia cosa. No, infatti, ma... Sì, diciamo che dopo Speed ho fatto un salto avanti di nove anni a livello di film, letteralmente, perché avevo nove anni... Cioè, questo è un film del 2003. Che bello! La storia di io che vado al cinema a vedere questo film, con mia madre ovviamente, perché mia madre per queste cose è santa nonna. Cioè, io indicavo lo schermo e dice voglio vedere quel film. Ok, qualunque cosa fosse, ma ci sarà tempo per parlare di questo. Approfondiremo, sì. Sì, sì, questa volta era un'epoca strana dove i trailer si vedevano o al cinema o in televisione sul canale non esattamente mainstream, tipo dopo il set. C'erano canali misteriosi, c'era MTV e poi il Far West. E a volte c'erano le anteprime di Coming Soon, non so se te li ricordi. Certo, sì, sì, sì. Erano dei piccoli momenti in cui sparavano fuori cinque o sei trailer alla volta. E io ovviamente ero sempre lì, perché i trailer erano sempre una cosa bellissima per me. E visto questo, ho detto... Non avevo idea di cosa parlasse, perché il trailer non era molto chiaro. Non c'era nessun attore che io potevo conoscere, anche se sentirai tra poco. L'avremmo conosciuto tutti, nel bene o nel male. Quindi ho detto, mamma voglio vedere questo. E lei, vabbè, prendi su, vado a vederlo. Ed all'epoca fu la cosa più bella che avessi mai visto in vita mia, come tutte le cose a nove anni. Wow. Era un certo livello di tamarraggine misto a British Humor, si può dire. Perché sono voluto rimanere nell'ambito inglese dopo il film che mi hai fatto vedere tu. Giusto, dopo questo drama incredibile. Che ricordiamolo era... Angus Tanks and Perfect Snuggins. Esatto. Mi sono spostato a Londra, perché il film inizia a Londra. Nella Big City. Nella Big City. Poi varia dappertutto, ma adesso ti dico. Di solito noi tiriamo fuori degli indizi e cerchiamo di farli capire all'altro di che film si tratta. Però stavolta non voglio fare questa cosa, voglio creare un po' di hype. Ok. Perché se ti dicessi che esiste appunto un film dove il protagonista è Sean Connery. Oddio! È Sean Connery e in questo film deve salvare il mondo accompagnato da un personaggio letterario inglese molto famoso. Personaggio letterario... Ok, no, allora non so. Perché quando ero piccola, forse però questo potrebbe essere uno spoiler, perché potrei farti vedere questo film. Quindi possiamo dire, quando ero piccola ero ossessionata da un film in particolare con Sean Connery, ma non ti dirò quali, perché così eventualmente non mi brucio. Ma se ti dicessi anche che questo personaggio letterario è il Capitano Nemo. Il Capitano Nemo. Questo film parla esattamente di questo. Sean Connery, che interpreta un altro personaggio che però non ti voglio dire, che deve salvare il mondo aiutato dal Capitano Nemo. E mi fermo qua, perché le sorprese non finiscono qui. Aspetta. Ma è Page Master? No, non è Page Master. Il film si chiama... No, infatti non c'entra niente. La leggenda degli uomini straordinari. Cosa? Mai sentito questa cosa in vita mia. E invece si chiama così, ma ti dirò ancora di più. In inglese il titolo è ancora meglio, perché sarebbe The League of Extraordinary Gentlemen. War a Distinguished Gentlemen. Esatto. Ma io non posso dirti di più, perché... Sarebbe uno spoiler. No, è che ci sono tante cose che so che ti faranno dire, oh mio Dio, sta succedendo davvero? Io purtroppo... Cioè, è una breve introduzione, ma vorrei fermarmi qua, perché sono troppo curioso di quello che verrà dopo. Ti do però i miei tre indizi da trovare. Ok, allora aspetta che prendo carta e penna questa volta. Carta e penna, bravissima. Anzi, quattro indizi da trovare. Ci sono, ho preso una matita. Sei pronta per questi indizi? Sono... Pronta. Tre indizi tematici e uno per te, fanservice, ma... Adoro. Partiamo da quelli tematici, perché abbiamo Iron Man. Ok. Hulk. Iron Man. Non me l'aspettavo. Hulk. E Batman. Ma cosa? Questi sono i tre indizi tematici e quello per te, che ho aggiunto adesso perché mi è venuto in mente, questo lo troverai di sicuro, ma sarà molto bello, è... Victoria di Twilight. Victoria di Twilight. Aspetta. Dei primi due film o del terzo? Di tutti. No, no, è proprio... Ok. Però adesso prima di iniziare, visto che c'è un po' di tempo, che aspettative hai di tutto questo? Allora, devo dire che questi indizi mi stanno mettendo un hype incredibile. Cioè, mi aspettavo tutto, tranne che questa sequenza di cose, tutte insieme, non hanno assolutamente senso tra di loro, ma già adoro. Però posso dire che, allora, perché facciamo un attimo di spiegone. Questo film non si trova da nessuna parte, quindi Jacopo me lo ha gentilmente inviato. Prestato, sì. Prestato. Me lo ha gentilmente prestato. Ha cercato di nascondere tutti i possibili indizi, in modo che io non sapessi di che cosa si trattava, no? Cioè, tranne una singola immagine. Un fotogramma. Un fotogramma che per sbaglio ho visto e mi ha completamente... cioè... Non pensavi fosse questo, non penso. No, addirittura ti dirò, vedendo quel fotogramma ho pensato, il fantasma dell'opera. Questo fa molto ridere. Questo fa molto ridere. Ma lo capirai dopo perché... Ok. Però è stato il mio primo pensiero. E infatti ho detto, no, spero non sia... cioè, spero non sia questo. Perché sennò mi sono bruciata il film per un stupidissimo fotogramma. No, no, non ti sei bruciata il film. Mi dispiace dire così poco, ma perché voglio che poi mi racconti tutto. Perché quando... diciamo che quando ho visto questo film non avevo la cultura letteraria che ho adesso e comunque mi è piaciuto. E adesso che ce l'ho invece, non perché sono un fenomeno, ma perché ho 30 anni e ho letto almeno due libri nella vita, sarà divertente. Ma poi ne parliamo. Ok, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Questa volta breve, così, ma voglio che si parta. Voglio che Giulia vada in questo viaggio magnifico. Spero. E poi torni. È un film molto camp, questo senz'altro. Non aspettarti drammi particolarmente pesanti. Già se mi dici camp, guarda, volo. Volo altissimo. Va bene, mi segnerò quindi tutti questi fantastici supereroi. In questa categoria includo, ovviamente, anche Victoria the Twilight. Victoria the Twilight, sì. A suo modo. Bene. Sei pronta? Sono pronta. Vado. A dopo. A dopo. Ma scusa, ma questa sarebbe la Batmobile? O me la sto inventando? Ah, c'è un tizio che è a metà tra Teschio Rosso e Batman. E anche un po' Lucius Malfoy. No, vabbè, allora, il film è iniziato da mezz'ora. Uno è stato incornato, letteralmente, con un tavolo poi. What the fuck? Ecco, The Phantom. Non era The Phantom of the Opera, però c'era un phantom, un fantasma. Ah, ma quindi è davvero il fantasma dell'opera? Ma io mi sento male. Oddio, la prima cheat. Chiamatemi Ismaele. A Moby Dick. Ok, sto iniziando a cogliere. Bello. Mi piace. Ma com'è Mr. Dorian Gray? Ma cosa? Allora, forse ho capito la cheat Victoria di Twilight. È perché c'è Mina che se magna la gente ed è roscia, per questo. Hulk vive a Parigi e ha un cappello a cilindro. Ok. Allora, qui c'è una città involontaria Taylor Swift, che vabbè, è ovvio che lei stava a sua volta citando un'altra cosa. Però Mr. Hyde dice Home is where the heart is e poi dice che gli manca Londra ed è palesemente una città London boy. Quindi ho deciso questo. Al tempo questa canzone non esisteva, ma non importa. No, il mega block twist di Phantom, che in realtà è il tipello dell'inizio. Penso di aver spottato Iron Man. No, non ci credo. Mori Arti, ma cosa? Geniale. Il finale è palesemente la versione letterale di Godzilla vs Kong. No. Questo finale aperto che ti lascia la domanda. Ma quindi è morto veramente? Adoro, bellissimo. Eccomi. Bentornati. È tornata. Eh eh. Dopo la visione de... Ma sai che non mi ricordo il titolo? Beh, insomma. Memorabile. Mi ricordo solo Gentleman. Vabbè, più o meno. La leggenda degli uomini straordinari. Però... Ecco, ecco. Sono passati cinque minuti dalla fine del film, eh. Vorrei precisare. Ecco, pensa com'è la mia vita, Jacopo. Pensa. E insomma, se dovessi spiegare la trama di questo film ai nostri ascoltatori, come faresti? Allora, fammi prendere i miei appunti. Allora, come descriverlo? C'è Sean Connery, che fa Sean Connery, insieme ad una manica dei pazzi, che però sono tutti protagonisti di grandi capolavori della letteratura. E fanno cose, salvano il mondo, fanno a botte, fanno un sacco a botte. Cioè, è pieno di menate in questo film. Bellissimo, questo mi ha divertito molto. Credo di non aver trovato uno degli indizi. Per la prima volta cado. Ah, ah, ah. Ma non ne sono sicura. Cioè, non lo so. Ok, ok. Prima di iniziare, però, ti vorrei chiedere, si potrebbe definire questo film come gli Avengers dell'Ottocento? Totalmente, totalmente. C'è anche una parte che mi ha ricordato Captain America. Addirittura, wow. Sì, mi pare che sia proprio il mio prediletto, ovvero Dorian. H. Dorian Gray. H. Dorian Gray che praticamente dice una roba tipo potrei fare questo tutto il giorno. Io lo dico. Eccolo lì. Eccolo lì. No, esatto, perché dillo chi sono questi personaggi, perché... Appunto, gli Avengers dell'Ottocento perché abbiamo nella ciurma, oltre a Sean Connery. Che in realtà, diciamolo, sarebbe Alan Quatermain, che però io non sapevo fosse un personaggio letterario famoso, ma esiste, sono stati scritti dei libri, tra cui l'Emiliera e il Re Salomone che io ho in memoria dietro, non l'ho mai letto, non so di cosa parli, però... Io no, Jacopo, mi dispiace. Il classico esploratore del continente nero, nel 1800, faceva molto questa roba. Faceva figo, ecco, vabbè, ma prima figura, prima brutta figura della contata, io che non riconosco, personalmente. Non l'ho visto a nove anni, sapevo solo chi fosse Dottor Jekyll e Mr. Hyde e fu la mia prima introduzione a Dorian Gray, quindi per me Dorian Gray è un immortale. Quindi per te non sei stato battezzato da Ben Barnes? No, io sono stato battezzato da questo film, infatti... Ma sai che ti dirò? Cioè non so, perché comunque io rimango fedele al mitico Ben, però questo Dorian, mio preferito del film. Ma comunque, allora, tornando a noi, chi sono i nostri mitici Avengers? Avengers, Mr. Hyde, che sarebbe il tizio di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, che abbiamo capito essere Hulk, che vive a Parigi e c'è arcappella a cilindro. È uguale a Hulk, cioè l'hanno fatto... Totalmente. Tu, Mr. Hyde, nel libro dovrebbe essere un omino basso, tozzo, un po' puzzolente, scurrile, qua è un uomo con il toraccio enorme, le braccia giganti e le gambine piccoline, proprio come Hulk e i basettoni. Poi c'è la mitica Mina di Dracula, che sarebbe poi Victoria di... Esatto, abbiamo trovato anche lei. Di Twilight, lei è stata trovata, e semplicemente perché è una vampira e ha i capelli rossi. Esatto, perché nel romanzo viene trasformata da Dracula, poi in teoria guarisce nel romanzo, però va bene così, dai. Ma va bene lo stesso. Poi c'è il mitico Dorian Gray, in tutto il suo splendore, e poi Tom Sawyer, così, a random. Molto random. E poi non vi hai mai chiamato Tom, ma solo il signor Sawyer. Ma poi ti spiego. Ok. Ma ne hai dimenticato uno che sarebbe... Due, anzi, ne hai dimenticato. Ah, giusto, c'è il tizio fantasma... Perché, se no ci confondiamo tra il cattivo che è The Phantom, che è il fantasma dell'opera, effettivamente. Quindi vedi che io in realtà avevo capito tutto. Avevo capito tutto. Cioè, ero già avanti. Ma l'altro è l'uomo invisibile. C'è l'uomo invisibile che usa questo trucco molto avanzato per l'epoca, per cui questa CGI di lui invisibile che si mette la crema per farsi vedere. Esatto. E c'è anche la classica gag dell'uomo invisibile che beve qualcosa e si vede il liquido che va giù. E niente, a me fanno ridere queste cose. E ti dirò, quando ho visto quell'effetto ho detto, cavolo, però bello per essere il 2003. Poi ho visto il Nautilus e ci ho ripensato sugli effetti speciali. Ho avuto dei ripensamenti. Aspetta, chi altro avevo dimenticato? Eh, il Nautilus, quindi... Ah, sì, vabbè. Come ti ho detto all'inizio, il Capitano Nemo. Sì, sì, il Capitano Nemo. Quindi questa gang del bosco, insomma, parte per una missione, insomma, devono salvare il mondo fondamentalmente. Esatto. E appunto... Perché il fantasma dell'opera sta causando la guerra mondiale, perché questo film è ambientato nel 1899. Giusto, è vero. Così a caso, è stato il fantasma dell'opera. Dimenticate quello che avete studiato su l'Arciduca Francesco Ferdinando, Sarajevo... No. Niente. È stato il fantasma dell'opera. Il fantasma dell'opera. Tutta opera sua. E con questa proprio... Vabbè. Esatto. No, e comunque quindi loro partono per questa missione a bordo del Nautilus, che sarebbe la mitica barchetta di Nemo. Il punto è che questo Nautilus ovviamente è un pataccone fatto in CGI, ma proprio un patacco... È tipo gigante sta cosa ed è super tamarra perché ha tutte queste decorazioni strane. Esatto, sì. Ero in estasi. Tornando agli indizi, ricordiamo quali erano. Iron Man, Batman, Hulk e Victoria di Twilight. Esatto. Hulk e Victoria di Twilight depennati. Check. Bravo. Esatto, trovati. Iron Man io credo, credo di averlo trovato in questo frame a caso in cui c'è uno con questa tuta. Esatto. Tipo uomo di latta. Esatto, a un certo punto alla fine del film ci sono i super soldati con le armature e il lanciafiamme e... Ed è Iron Man. Si vede da due secondi ma è palesemente Iron Man. Sì, quindi anche questo, check. Di frenato. Batman mi ha messo in serie difficoltà perché all'inizio il nostro mitico fantasma dell'opera c'è una maschera nera che sembra un po' quella di Batman, però ci sono anche dei pipistrelli perché c'è Victoria, ovvero Mina, che è un vampiro e quindi ero perplessa. È vero. Tra i due mi hai confuso. E invece, allora, era uno, erano i pipistrelli e ce ne erano due, te ne avrebbero dati buoni tutti e due se ne avessi trovati, quindi uno l'hai trovato brava, comunque, quattro su quattro. L'altro è che alla fine il cattivo, che poi direi tu chi è, perché c'è l'ultimo twist di questo film fa sempre super ridere, l'ultimo cattivo del film quando scappa prima di essere fermato, si lancia dalla finestra e plana con questo mantello che non ha nessuna ragione di avere e niente, a me ricordava molto Batman, ma è che non c'entra niente perché è un pelliccione, no? Però lui lo usa per planare da 300 metri. Non ci avevo pensato, cara. No, ma infatti l'ho messa lì perché volevo restare in tema supereroi, però brava, hai trovato tutto. Bellissimo. Grande. Fatto, fatto. E quindi, il mega cattivo chi è? Perché? Allora, abbiamo detto che partono per la missione, il cattivo è il fantasma dell'opera, tutta corpo sua, tutta opera sua, ma in realtà, plot twist finale, il fantasma dell'opera non è il fantasma dell'opera, ma è il tizio con cui hanno parlato all'inizio, il signor M, che si scopre essere Moriarty. Una roba che manco Sherlock stagione quattro avrebbe detto. Incredibile. Niente, questo film te l'ho fatto vedere semplicemente soltanto perché c'era tutta questa paccottiglia di nomi in mezzo, perché non te lo aspettano, cioè se vai dentro così non te lo aspettano, figurati se mettono anche Dorian Gray e poi spunta Dorian Gray e poi spunta Mr. Hyde e la tipo, a un certo punto c'è anche una citta Moby Dick che tu hai trovato subito, molto brava, perché il nostro uomo di Nemo è Ishmael che sarebbe il protagonista di Moby Dick ed è un film pieno tutto di queste cose un po'... Un po' libresche. È una bella idea e tanto per restare ancora in tema supereroi è tratto da un fumetto perché vuoi che non si... Ah, davvero? Non lo sapevo? Sì, sì, sempre Alain Moore. Ah, beh, chi se non Alain Moore? Esatto, che ovviamente ha detto che questo film mi fa cagare perché... No! Però l'idea di per sé a me piace, cioè era una cosa che mi gasava anche da piccolo, che non capivo molto bene, tutte queste cheat comunque mi piaceva l'idea che i personaggi di cose diverse si parlassero, interagissero. Beh sì, è un mega episodio crossover se ci pensi. Devo dire che avendolo rivisto dopo vent'anni, praticamente, ventun'anni, come posso toccarla piano? Non posso. È un brutto film che io amo. È un brutto film che io amo. Sì, non c'è, non è difendibile, cioè funziona poco e niente, ci sono qualche generazione carina, qualche dialogo simpatico, è tutto molto camp. Però non regge, secondo me. Però allo stesso tempo è così simpatico, non lo so. Cioè, zero cervello, capito? Da bimbo questo ovviamente era lo spettacolo migliore del mondo. Cioè il Nautilus che esce, loro che inseguono Mr. Hyde che salta tra i tetti di Parigi ed è un gorillone gigante con la super forza. Dorian Gray che gli sparano come Wolverine e poi si vedono le ferite che si rimarginano. Mia scena preferita, posso dirlo. Mi domando il perché. A proposito di Gorillone, cioè sempre nel finale c'è uno scontro pazzesco tra Mr. Hyde Hyde. E un'altra versione di Mr. Hyde però più pompata. Sì, perché no, diciamolo, perché il grande piano di Moriarty era unire i straordinari gentleman per rubare i poteri e venderli al mondo e ruba anche la formula di Mr. Hyde. E c'è sto tizio che a un certo punto si beve la pozione di Mr. Hyde ma ne beve dieci volte tanto quello che beve lui e diventa un tizio gigantesco alto sei metri con un braccino piccolino e l'altro super muscolò. Tutto rosso. Esatto. E quindi abbiamo avuto la nostra versione ottocentesca letteraria di Godzilla vs. Kong. Esatto. Questo cheat è molto fine Giulio. Sono molto fiero di te. Allora tu dicevi che il film secondo te non regge e ci sta. Ci sta perché comunque insomma cioè ok. È una cagà. Sì. Però mi ha molto sorpresa perché questo film secondo me ha letteralmente tutto. Ha tutto. All'avventura. I colpi di scena. Gli intrighi. La romance. Le botte. E anche le botte tra mostroni. Eh sì. Ha tutto. Ha tutto. Quindi può accontentare. Fa ridere perché fu abbastanza un fiasco all'epoca questo film. Non andò molto bene. Tra l'altro uscì tipo una settimana prima del primo Pirate dei Caraibi. Quindi capito. Ah cavolo. Il mercato era un attimo diretto verso un'altra cosa. Però è comunque stato interessante vedere che era un po' un precursore di un sacco di cose che avremmo visto dopo al cinema di questo tipo. È vero. Magari fatte anche molto meglio. In realtà questo film è banale però i set sono molto belli secondo me. Sono ben illuminati. Concordo. Non sono fatti così. Ci hanno messo un po' di olio di gomito nelle cose. È una Londra vittoriana. quello era. Poi niente di speciale però c'è la nebbia. C'è la pioggiorellina. Sì è perfetto. È perfetto. Ma infatti io mi sono proprio segnata questa cosa tra i miei punti. Ho scritto locations pazzesche. In particolare tutti tutti i setting nelle librerie. Bellissimi. Pieno di libri questo film. Pieno di libri giustamente. E poi è proprio tutto molto bello. Cioè bella la fotografia possiamo dirlo. Ecco meno male. Va detto. Bella la fotografia. No no è vero. Ma poi anche questa tecnologia retro tipo il radar di Nemo. A me piace sempre quello. Con il mappamondo che gira e le lucine per far vedere dove sono loro. Perché hanno un modo di tracciare il Nautilus. No è tutto molto così. Per le cose che non funzionano purtroppo è per me che è tutto molto buttato via a certe volte. Cioè i personaggi interagiscono una volta che sono insieme poco. Poi è tutto molto chiaro. Nel senso succede questo. Dobbiamo fare questo. Sean Connery deve avere più a tutti di tutti perché Sean Connery... Ovviamente. Ma tu l'avevi mai sentito parlare in lingua originale Sean Connery? Sì sì sì. Io no. È la prima volta. Quindi quando lo sentivo che parlava tutto con Xi perché lui c'è questa esce molto irlandesce. Sto male. Ti ha scioccato. Eh sì. Anche perché il doppiaggio in italiano ha questo vocione super profondo e non te l'aspetti. Boh quel classico film l'ho visto una volta da piccolo e mi è gasato un botto e quindi vediamo com'è ventun'anni dopo e dici ah ok però però c'era una serie di cose che mi piaceva ma anche dei dettagli scemi tipo c'è una scena dove ci sono degli ultrasuoni che fanno saltare le bombe e solo gli animali possono sentirlo e però lo sente anche Mr. Hyde perché lui è il lato animale dell'uomo no sono cagate però oppure il fatto che le ferite di Dorian Gray non sono non esce sangue ma esce tipo la la tela sì la tela rotta del quadro perché lui è immortale grazie al quadro o anche banalmente quando si vede il quadro cioè quell'effetto è orribile però però era film no da piccolo non sapevo di appunto di Dorian Gray e questo è un riassuntone di tutte quelle robe cioè io sono andato a leggere alcuni libri dopo aver visto questo film non mi ricordo 20.000 leghe sotto i mari l'avevo già letto ma me lo sono riletto mi sono letto il ritratto di Dorian Gray non a dieci anni ma qualche anno dopo però insomma la mia idea era quella per me quando mi dicono Dorian Gray mi viene in mente sto tizio con la spada che è tanto immortale gli ammazza tutti poi il romanzo parla d'altro però è quello eh pazienza ma sì cioè è stato molto divertente anche per me che appunto non lo conoscevo non avevo mai sentito proprio non era mai passato sopra sotto sopra o sotto i miei radar sotto i miei radar sì sotto il naso di sotto il naso sotto i miei radar del mio nautilus va bene mi sono molto divertita e mi sono segnata anche due cose che sono state molto belle allora la prima è in assoluto la mia scena preferita del film dopo forse però Dorian che viene sparato e riguarda sempre Dorian ovviamente avrete capito che mi è piaciuto questo personaggio anche perché scusa è proprio questo attore con il pizzetto un po' di occhiaia i capelli lunghi tutto nonchalance perché è tanto immortale non gli frega niente Julie tipo vabbè io basic io una persona basic vabbè no però la mia scena preferita è stata sempre Dorian che è una scena totalmente a caso però ti giuro che ho proprio riso rumorosamente perché c'è lui che si vuole depilare le sopracciglia ok con queste pinzette così no che fa e solo che viene interrotto perché c'è mister Hyde che nel frattempo sta sbroccando e quindi lui tipo è super irritato da sta cosa dice ma chi è che mi disturba mentre io mi voglio depilare cioè come vi permettete insolenti è vero avevo rimosso questa cosa che abbiamo ben un'inquadratura dedicata al depilazione di sopra però vedi un altro dettaglio lui super vanesio esatto buonissimo cioè non c'era bisogno di metterla però l'ha messa e via così dava colore infatti e poi mi ha fatto anche molto ridere il fatto che abbiano cercato in tutti i modi di appioppare Mina a qualsiasi personaggio è vero cioè ad un certo punto tutti hanno una crush per lei solo perché è una donna molto 2003 esatto e ovviamente come negli Avengers ci sono tutti bianchi e c'è una sola donna nella squadra con i capelli rossi coincidenze non avevo pensato a queste cose sono letteralmente gli Avengers oh mio dio dovremmo chiedere ai fratelli russo se hanno preso ispirazione da questo film i fratelli russo che salutiamo carissimi che ci seguono sempre senz'altro senz'altro come noi seguiamolo niente sto pensando a Tom Sawyer ogni tanto Tom Sawyer che appare a caso perché adesso io ho una lista i top 6 cioè top 6 trivial di questo film che ho imparato informandomi prima di questa puntata posso già andare ai altri commenti perché qui andiamo vai magari mi verranno poi lungo la via il primo molto basic ma mi fa molto ridere Connery ha accettato di fare questo film semplicemente perché negli anni precedenti gli avevano offerto due copioni uno era la compagnia dell'anello e uno era Matrix e lui li rifiutò entrambi perché non capiva la sceneggiatura e avendo visto che avevano fatto tanto successo quando gli è arrivata un'altra sceneggiatura che non capiva cioè questa ha detto vabbè lo faccio no esatto è andata malissimo Sean no perché aveva 71 anni non fa molto ridere questa cosa si quindi spiace un sacco se non capisco vuol dire che avrà un grande successo e invece e invece ho beccato l'unico tra l'altro ad aggiunta di questo sul set tirava un'area bruttissima tra Sean Connery e il regista si odiavano per cui ho qui una un aneddoto se vogliamo hai presente una scena che è una scena normalissima di loro quando per la prima volta sono tutti insieme ed escono dal Nautilus banale il regista come è normale ha chiesto a Sean Connery di fare un altro take perché perché sì ma sì perché si fa sempre dai è il cinema Sean Connery era così pieno di se stesso che ha detto non no io non faccio che cazzo vuoi non si fanno altri take che va bene questo andiamo avanti e il regista gli ha risposto in modo un po' bitch però ha ragione ha detto Sean penso che per una paga di 18 milioni tu possa fare un secondo take beh che dire onesto la risposta di Connery stando ai altri membri del cast non è documentabile oddio wow voglio rivederlo in quest'ottica voglio osservare tutte le espressioni di Sean Connery e immaginarmi cose questo ci porsa al terzo trivia perché l'esperienza è stata talmente brutta che il regista non ha mai più diretto un film oh no è stato traumatizzato ha detto che era pieno dell'industria e voleva andare a casa e ad oggi non ha fatto nient'altro wow cioè traumatizzato sì sì a vita distrutto oh vero ed era il suo quarto film quindi neanche una carriera no poverone Stephen Norrington non se lo meritava perché comunque non è il film più bello che abbia mai visto ma dai c'era cuore però l'hanno proprio distrutto ed era oh vero come è che si chiamava lui? Stephen Norrington ah ecco giustizia per Stephen però questi erano i tre trivia drama adesso ci sono quelli più buffi vai questi erano drama ok sì i tre erano drama poi ci sono quelli più buffi adesso vabbè erano un po' drammatici un po' dramas ok hai ragione per caso ti è sembrato che il personaggio di Tom Sawyer fosse un attimo buttato lì a caso senza motivo beh sì cioè nel senso arriva a caso e fa cose a caso esatto sai perché? perché a metà della lavorazione i produttori hanno detto non c'è nessun americano in questo film oh no e quindi gli americani non guarderanno mai un film senza un americano e per questo hanno deciso di mettere Tom Sawyer che ha registrato praticamente tutte le sue scene in CGI e poi l'hanno appiccicata no no hanno fatto un po' di risciutto penso però è proprio un po' di risciutto wow sì sì perché alla fine ha un mezzo rapporto con il personaggio di Sean Connery però famoso Tom Sawyer agente della CIA fa ridere oddio bellissima questa tra l'altro nel una parte non utilizzata della sceneggiatura prevedeva che il fantasma avesse ucciso il migliore amico di Tom Sawyer che era appunto Huckleberry Finn no ed era ci hanno privato di tutto questo esatto no quinto trivia il mio preferito personalmente e penso anche il tuo tra un po' ok perché nei fumetti tra è una serie che va avanti da tanti anni non è più seguito ad Alan Moore ma ha fatto altre cose fra i vari personaggi che si sono uniti alla Lega degli straordinari gentlemen abbiamo John Carter di Marte che comunque vabbè chi è? è quello John Carter è un altro tipo romanzo per bambini di un tizio che va su Marte ma c'è meno gravità quindi è super forte e diventa il re ok scusate sono super ignorante in materia poi c'era anche Arsenio Lupin così adoro questo qua in particolare no te lo dico dopo te lo dico per ultimo ok Sherlock Holmes ovviamente perché vuoi che a un certo punto non sia passato anche Sherlock Holmes quello che non ti aspetti e qui hanno cominciato a mettere personaggi di cui non hanno proprio diritti ma lo fanno intuire che è lui quindi hanno messo The Doctor di Doctor Who no è stato incontrato dalla Lega degli Salonari Gentles urlo urlo bellissimo voglio leggere i fumetti adesso c'è anche l'Orlando di Orlando Furioso stai scherzando allora io sarò pure ignorante in letteratura ma l'Orlando Furioso è una delle mie cose preferite ottimo perché c'è anche lui poi abbiamo e questo l'hanno fatto per noi bimbi del dance oddio in una vecchia incarnazione della Lega c'è il dottor Caligari del gabinetto del dottor Caligari non ci credo che è bello ma io voglio leggere dove li trovo questi fumetti non lo so non l'ho mai visto in vita mia però vabbè li cercherò li cercherò ultimi due trivia simpatici di questo tipo perché in uno degli episodi successivi ed è un sequel cancellato di questo film la Lega avrebbe affrontato l'invasione dei marziani della guerra dei mondi ok bellissimo top e tra le moderne incarnazioni della Lega quelle arrivate ai giorni nostri ci sono anche un nuovo cattivo che sarebbe Harry Potter ma come è un cattivo? e perché è cattivo? perché ovviamente è una strega e quindi è l'anticristo ma come? e te lo giuro chi viene a sconfiggere non lo chiamano Harry Potter perché non possono però c'è è chiaramente lui e sai chi arriva a sconfiggere Harry Potter? ho paura di saperlo Mary Poppins che chiaramente nel fumetto viene fatto intuire che sia il volere di Dio Mary Poppins è il volere te lo giuro un'immagine di Mary Poppins nel fumetto che l'ho cercata ed è fa paura nel senso che è proprio oddio mio l'apocalisse che arriva in Mary Poppins col sombrellino e gli occhi rossi da che scende dal cielo per sconfiggere Harry Potter è straordinario è straordinario improvvisamente Good Homens esatto ma cosa? tutte queste informazioni mi hanno stordita cioè sono un po' scioccata poi c'è l'ultimo trivia che è un po' sad però mi fa molto ridere per i motivi sbagliati mi fa molto ridere questo purtroppo per fortuna è l'ultimo ruolo cinematografico di Sean Connery prima di andare in pensione non ha più fatto nient'altro come no? davvero? davvero ero convinta di sì anch'io ma invece no se vai ripensandoci è vero se vai su wikipedia l'ultimo film della sua infinita filmografia è la leggenda degli uomini straordinari posso dire un finale di carriera coi contro bip non so se posso dirlo vabbè grandissimo Sean cioè voglio dire avrà fatto pure 007 ma questo ma questo un altro livello bello mi piace for the means è divertentissima questa cosa è bello che ha distrutto un regista ma il regista ha anche distrutto lui perché a quanto pare era talmente pieno dopo questo film che ho detto buona e tra l'altro ha finito con questo film dopo aver rifiutato sia Matrix che il signore degli anelli esatto madonna Sean un eroe Sean un eroe però anche un po' stolto perché capisco che tu non abbia capito Matrix cioè ci sta sei nato nel 1920 e magari era un po' too much però cazzo il signore degli anelli è della sua generazione voglio dire è il romanzo della sua generazione mi fa strano che abbia detto no magari non l'aveva mai letto ha visto sti qua con le orecchie a punta e i nani e ha pensato che è sta roba beh comunque volevano fargli fare Gandalf ovviamente perché ha senso però posso dire meglio Ian McKellen col senno di poi col senno di poi non riesco a immaginare e beh sì è giusto ovviamente ma vuoi sapere una cosa adesso che abbiamo parlato sia del signore degli anelli che di Harry Potter non mi vergogno a dire che per gran parte della mia infanzia ho pensato che fosse lo stesso attore cioè che Daniel Radcliffe e come dire e Frodo Baggins sì non so perché ma perché sono tutti e due un po' pallidi hanno questi occhi azzurri ok boh solo che Daniel Radcliffe aveva nove anni quando ha fatto Harry Potter e hai ragione cosa come si chiama oddio Elijah Wood Elijah Wood esatto ne aveva un po' di più tipo 21 anche l'era giovanissimo comunque sì era il più giovane ho fatto un rewatch negli ultimi giorni il signore degli anelli bravo 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 è sempre è sempre giusto fare un rewatch del signore degli anelli ovviamente poi mi è capitato la leggenda degli anelli straordinari con queste informazioni non lo sapevate sapevatelo allora questo film già di suo era una cosa se ci aggiungi questa lore diventa ancora più una cosa incredibile e niente questa era il mio film la leggenda degli anelli straordinari non lo conoscevi questo no assolutamente si scommetteva abbastanza che mai mai fosse passato ma nemmeno Speed alla fine cioè sì ma Speed è famoso questo sì dai sapevo il gossip di Speed esatto questo era lì nel lettere e ha detto volevo rivederlo ho detto vabbè faccio vedere anche a Giulie così grazie giusto così bene quindi grazie mille Jacopo per avermi consigliato questo film di niente sono felice che tu l'abbia visto così può uscire dalla mia testa e quando ne parlerò qualcuno saprà di cosa parlo finalmente dopo 21 anni non sono più solo se qualcuno di voi l'ha visto spero di averli portato bei ricordi o brutti la seconda se vi è piaciuto o meno spero belli beh se chiedi all'amico Steven là saranno sicuramente brutti povero Steven poverino gli auguriamo tutto il bene perché sempre comunque giusto così e nulla quindi io sono molto indecisa per il prossimo film da farti vedere perché ho in serbo per te varie cose e devo scegliere se farti vedere delle robe molto brutte oppure molto strane vedremo a me va bene tutto vedremo tanto io ormai il mio obiettivo è trovare una risposta ai tuoi film non ci devo neanche più pensare vedo i tuoi e poi mi viene in mente esatto so come risponde l'importante è che io ti sorprenda come tu sorprendi me perché ma sì per forza se Anna Montana era quasi ovvio Angus e tutto il resto no Angus non me lo aspetta sì allora ci saranno altri ovvi che però penso tu non hai mai visto ma anche io ma ci sarà tempo però anche cioè ho proprio molte cose assolutamente cioè che se vogliamo a livello devo formulare questa cagata ho in serbo delle cose che se vogliamo a livello teorico sono più o meno allo stesso livello di questo film cioè le ho viste solo io e sono completamente un what the fuck dopo l'altro sono sono prontissimi quindi a questo punto ci vedremo ad un prossimo episodio yes grazie a tutti e alla prossima alla prossima ciao ciao ciao